Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato la notte scorsa nell'ex convento di Santa Chiara, Bari, nel cuore della città vecchia. Il rogo è scoppiato intorno alle due e mezza, mandando in fumo due piani della palazzina, occupata da diversi mesi da un centinaio di migranti con status di rifugiato politico. A provocarlo, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, un ospite della struttura, un cittadino nigeriano di 32 anni, a seguito di una violenta lite con altri immigrati. Secondo una prima ricostruzione, già nel pomeriggio di ieri si sarebbe reso necessario l'intervento della polizia municipale e degli operatori del 118, che hanno accompagnato l'uomo al pronto soccorso in evidente stato di alterazione. Una volta dimesso, il 32enne avrebbe fatto ritorno nell'ex convento con l'intento di vendicarsi, dando fuoco ad alcuni sopellettili al terzo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. Con loro erano presenti anche i carabinieri, che hanno evacuato per sicurezza l'intera struttura, da tempo finita al centro di polemiche proprio per via dell'occupazione dei migranti. Questa mattina i militari hanno eseguito un ulteriore sopralluogo per accertare che nelle stanze distrutte dalle fiamme non ci fossero vittime. Dopo la notte passata fuori, i rifugiati sono rientrati nella struttura, sistemandosi negli altri piani non danneggiati. Il 32enne, invece, è stato arrestato.